ormai questi moitos sono inarrestabili complimenti al capitolo Gigandolfo grazie grazie nessuno all'inizio ci credeva ma noi ci credevamo sinceramente ma a noi non ci crede mai nessuno ma sbaglio di Francesci ha detto che quest'anno vincevate solamente 3 partite e già abbiamo vinto ancora ne vinceremo Marco mi devi un moito ah te l'hai dimenticata questa scoperta per colpa mia di Francesci mi dirà e vabbè alla fine questi moitos si stanno riprendendo alla grande 7-2 contro i tetti di Coscaglione tripletta di benvenuto anche lui 2-2 gol 2-2 gol e poi complimenti tutta la scuola a Bellotti Andrea Bellotti ha fatto un gol ma noi andiamo in campo e facciamo il nostro gioco al video degli avversari come dovrebbe essere e come proprio voglio che sia la mia squadra una bella giornata primaverile oggi è caldo abbiamo gestito anche il fiato a parte che comunque siamo gli 7 e manca Amari lo hai messo pure in 8 con Amari beh no no la cesta è di con la cesta di Amari che si deve riprendere però io comunque abbiamo gestito anche il fiato durante la partita oltre il vantaggio abbiamo un po' gestito perchè buttarci a capofitto significava anche scoprirci un po' può ancora migliorare questa squadra? io direi di sì direi di sì però la condizione che abbiamo ora se ci manteniamo così sono guai per tutti va bene così capitano l'altra volta il tuo portiere ha fatto il compleanno facciamogli auguri in diretto di 18 anni oggi ha festeggiato alla grande sì 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 gli avevo chiesto di ritarmi questa vittoria per il compleanno perchè se no me ne vado dalla squadra e loro mandano sì io se ne va sempre non se ne va a mare pure rossa sabato prossimo a che ora si sa? alle 7 alle 7 nooo c'è lo stadio si fa l'ermobbogna alle 20 e 45 io non vengo loro come? no 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 io non vengo io non vengo no io lo stadio che fa un ciclo di pittina esattììì non romperai le scatole ehm le furie rosse come così come noi ci andiamo in campo al di là degli avversari facciamo la nostra partita va bene complimenti ragazzi ci vediamo sabato prossimo grazie ciao ciao ciao